Grave incidente nel pomeriggio di martedì in via Mercanta a Celle dove un uomo di 56 anni è rimasto ferito dopo una caduta in bicicletta intorno alle 18. L'uomo stava scendendo lungo la discesa di via Mercanta quando all'altezza del Civico 7 ha perso il controllo della bici ed è caduto violentemente a terra attraversando la careggiata e fermandosi contro alcuni cespugli al confine con un campo alla sinistra della strada. E' stato richiesto l'intervento del 118 arrivato in via Mercanta inizialmente con un'ambulanza poi, viste le conseguenze della caduta per il ferito, è stato attivato anche l'elicottero di Romagna a soccorso. Per il ciclista un trauma cranico e una grave ferita ad un braccio. L'uomo, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato quindi caricato a bordo delle elimediche e trasportata al centro traumatologico dell'ospedale Bufalini con il codice di media gravità. Sarà ora compito della polizia locale della Romagna a Faentina cercare di capire le cause dell'incidente. Secondo però i diversi residenti presenti in zona, la caduta potrebbe essere imputabile all'asfalto non proprio in perfette condizioni. Troppi avvalamenti, crepe, buchi e irregolarità infatti caratterizzano la pavimentazione di via Mercanta e da tempo è stato richiesto un intervento al Comune.